Se la cosa è semplice potete essere ottimizzata, se ti dice che non c'è soluzione, la faccio tu. Quindi, iniziamo la prima volta a girare. Ah, no, è l'altra. Quale piega è? Sopra la 24? Sì, sì, perché questa è questa. Ok. È di 3 milimetri. Ah, questa è ancora così. Quindi questa dovremmo essere l'ultima prima? Sì, dovremmo essere l'ultima prima? Sì, dovremmo essere l'ultima questa. Allora, dovremmo essere l'ultima? Sì, dovremmo essere l'ultima prima? Miega. Ma è buono. Ah si, esatto. Non è? Credo che abbiamo supporto. Vai. quando l'abbiamo eccia quando la teniamo eccia ottimizzare poi accettare possiamo simulare aca non teniamo nada che desir però aca possiamo essere supporto quando la teniamo in lista automatico la guardiamo quanto è il numero la guardiamo con il nome poste marco marco la guardiamo la guardiamo aca lo teniamo aca lo teniamo Se sto in pliega 3 seguo prima il pliega e la macchina mi va al pliega numero 1 Ok perchè ovviamente devo impiazzare dal pliega 1 Deve portare una piazza 230.6 per la longitud che ti hai vista che è 3000